Buonasera a tutti e benvenuti, oggi incontriamo con un grande piacere il nostro caro amico Lorenzo Marone e poi lui è tornato a trovare la cica, allora per lui io sento anche la bravissima Antonia Truppo che deciderà le mani non dormono mai, sono tutti vostri, guarda la presentazione Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in tanti sono felice, ho avuto di essere qui perché ormai mi prende il cuore Lorenzo Marone io quando lo leggo impianto una serie di emozioni molto forti, molto profonde lo seguo dal primo libro e in questo sarà che dal titolo ha già chiamato un sentimento partolare che va ad essere madre, quindi lo farò parlare subito e vorrei che ci raccontasse appunto l'inizio di questa storia, che è una storia molto dura, una storia di rapporto madre figlio ma anche e soprattutto di tutta l'umanità che si c'era dentro alcuni posti che adesso lui ci racconterà sentite? Ecco, buonasera a tutti, grazie grazie a tutti, grazie a essere qui è da poco che mancava per te e allora, come nasce? Nasce un anno e mezzo fa questo libro, grazie a una gacchierata con Paolo Siani, che è il fratello di Giancarlo e io, il quale sono amico ed è anche un ragazzo normale, rappresentato un quarto all'altro e lui è parlamentare, siamo un quattro bambini da sempre, ed è il primo firmatario di una proposta di legge che prevede la sostituzione di questo item, che adesso diciamo cosa sono, un po' delle case famiglie, e quindi quando mi raccontò, e quindi esattamente un argomento che mi è stato probabilmente a cuore, quando mi raccontò questa storia, cioè di questi bimbi di due, tre, quattro, cinque anni che vivono da reclusi, da carcerati, con le mani, era una realtà che non conoscevo, in realtà poi mi sono reso conto, da quando c'è il romanzo, quindi alla quindicina dei giorni, che molti siamo per esempio, pochi a conoscere questa realtà, e quindi mi venne voglia di andare a vedere, i calmi sono carceri a detenzione attimata, significa che sono carceri, dove vengono le ingiuse le mani, le detenute, quindi con i figli, quando questi non possono essere affidati a nessun altro, si dice detenzione attimata perché, parliamo di, le cele sono bivani, quindi mini appartamenti, quindi con la cucina, con la televisione, il mirano, eccetera, c'è per esempio il cortile interno, con le giostrine, eccetera, le guardie non hanno divise, non hanno armi, però le cele hanno comunque le spalle delle finestre, hanno le porte blindate, la sera sono bivoli, giù c'è il piano, ci sono cinque i campi d'Italia, alcuni di questi a lavoro, con il principio di regino, quindi in casa mia, un retta di macchina, e quindi chiese, all'epoca eravamo in pieno lockdown, a un altro amico che è il garante dei detenuti campani, di accompagnarmi lì, dovevo andare a vedere, e arrivato lì, è stato incredibile, perché riminere un carcere, c'è anche i muri, parecchi altri, le telecamere, le guardie, che richiedono i documenti all'ingresso, e poi, oltrepassato, questa soglia, ti trovo che le pareti, con dipinte, piancaniere, settenali, cip e ciocche, arrivano all'eprida dei bambini semplici di essere entrati in una scuola. Stetti lì, qualche ora, questi bambini mi sequestrarono, proprio materialmente, vieni a vedere come siamo bravi a fare questo, a fare quell'altro, c'era un bambino, anche più grande, che ha un po' ispirato la figura di Diego, che si chiedeva proprio l'esigenza di contatto con l'esterno, anche forse una figura maschile, che va aperto, e quindi poi quando usciti da lì, insomma, io devo raccontare questa storia, e poi è nata un'altra cosa. E poi immaginate, no, raccontarete questo carcere, perché fondamentalmente l'OF è più colorato, diciamo così, non ha le sbarre così pesanti, però l'OF, una madre che vede un figlio crescita in tempo, ma è una cosa verosissima, ma per lo stesso bambino anche lì nel mondo è quello, no? E il loro rapporto che Lorenzo descrive perfettamente, Lorenzo è uno dei popissimi scrittori maschi a saper raccontare le voci delle donne, forse meglio delle donne. A due cuori, secondo me, uno maschio e uno femminile, che si parlano perfettamente. E a proposito di questo, Lorenzo, io vorrei che lei leggesse già questa descrizione, diciamo, di Miriam e Diego. Buonasera. Ti conviene stenderli in cortile? disse una voce improvvisa. Miriam si girò, sulle mani un paio di calzini rivoltati a uno di quanto. Appoggiata allo stipide della sua cella, c'era una detenuta, le braccia strette al petto e i capelli mezzi neri e mezzi bianchi, annodati con un elastico viola. Indossava lezze, lo sbruciti e una felpa grigia con il cappuccio che le cadeva larga su davanti. In faccia, tentava di tenere il sorriso, che però le usciva schermo, per via di un buco e bocca. Le mancavano un canino e un incisivo. Sembrava avere un'età indefinita, non meno di trenta, non più di quaranti. Se li vai a sciogare lì, ti piglia il fedore di questo posto. Miriam inclinò il capo e non rispose. Strinse gli occhi per studiare l'interrocutrice e incassò il collo nelle spalle in posizione di difesa, pronta a ricevere l'attacco. Si aspettava che da un momento all'altro la donna le chiedesse qualcosa. Fuori, proseguì invece questa, indicò con il vento il cortile, c'è lo stendino. Miriam non aveva voglia di parlare e tornò ai panni. Tuo figlio è simpatico, provò ancora la donna. Con mia figlia si intende non ho già fatto amicizia. «Ah sì», si sforzò di dire Miriam, sfilando con gesti nervosi le mutande d'accetto. «T'hanno dato un bel appartamento», commentò quella rinvigorita. E lei stette zitta ancora. «Perché sennò avrebbe dovuto dire che non era un appartamento. Sempre c'era e restava. Nonostante costruire il locale con cucina, camera da letto, tavola e televisore, alle finestre c'erano le spalle. E la notte, la morta, le guardie la chiudevano a chiave. «Beglie sei qui», invece era sconosciuta dopo l'ennesimo silenzio, non alzantandosi a entrare. «La terra non è fatto», rispose lei, indurando una voce, mentre lo vistava a caso tra gli indumenti bagnati. La pausa che seguì era piena di imbarazzo. Le voci si rincorrevano rimombando nei corridoi. Dal cortile si spandevano le risa dei bambini. Il carcere, Minam, lo avrebbe presto capito, era un disordine sgraziato di suoni, una patina di rumori a scandire ore sempre uguali. La buete non c'era e, quando c'era, portava sospetti. Nel cuore della notte giungeva il russo della cella accanto, il cigolio della rete del letto di chi non trovava pace, le chiacchiere della previsione di chi non lo spugneva mai, perché ad alcune prendeva la paura di essere soli al muoto e nel buio temevano di incontrare i propri demoni venuti a panchettare con le loro anime peccatrici. La detenuta capì che non c'era modo di iniziare una conversazione e si stancò dallo stipede e, prima di allontanarsi, disse solo «Mi chiamo Anna, benvenuta». Miriam tornò ai suoi mani e torcerò dai polmoni con uno spuffo. Lei non voleva compagnia, non conosceva l'amicizia, non temeva la solitudine. Il sole mattutino si affaccendava a portare un po' di calore, permetteva ai bambini di restare fuori a giocare, ma proiettava l'opera delle sbarre sulla parete alla sua testa, sezionava il muro come una scacchiera. Miriam pensò alle parole della donna e si accostò alla grata per cercare dietro nel cortile e lo scorsi in un angolo che si intratteneva con uno scricciolo di ragazzina dai capelli ricci. Lui tentava di fare una capiona e lei rideva. «Di lui?» pensò subito Miriam. Ella pervase la solita fria che abitava le sue giornate senza amore e le deformava il volto, la fria dei rispetti o di chi si crede sempre tale, lei persecutrice perché perseguitata. Il sangue salmone le vene e le scaldò le guance, avrebbe spaccato con le tieni la faccia a qualcuno. s'appese alle strade e allungò l'esile collo come a voler uscire da lì, lei così minuta, e si ritrovò sulle punte senza volerlo. Da dietro pareva un bruma pronto a spiccare il bagno. Pensò di andarsi a riprendere quel figlio cretino che a quasi dieci anni si lasciava sfottere da un amoccio sempre e manco lo capiva. Invece vide qualcosa di inaspettato. Vide la bambina ridere ancora tutte le parole del suo genio. E però subito dopo vide anche il viso di lui aprirsi in un giocoso sorriso. E poi una fragolosa risata che liberò a farle, una risata per lungo tempo attesa, che le tolse l'ombra dalla faccia e la spinse a donare al cielo e lungo le dense che soffocavano dal carcere tra i monti. Un modo appena pericettibile di labbra. No, tra l'altro mi permetto di dire, che non è la prima cosa che c'era, l'antoria sarebbe io, la proposta di conoscere l'ostante che ci conoscevo da un altro, che ho messo. Avevo già scritto da un altro. Però secondo me lei è perfetta. Perfetto. 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 Buonasera. Buonasera, questa Miriam ha delle parti oscurissime, no? Tantissimi mondi dentro. Pian piano sono buoni. Durante quelle varie ti accorgi della della motivazione tra le più evidenze. Nel grande moraggia anche su questo libro. Com'è lo spiegato questo personaggio? Cortissimo e fragilissimo. Ma sai Miriam è figlia del suo rissuto. una che viene da un partito difficile da Napoli, una che ha avuto un trascorso complesso e troppo stretto a crescere prima del tempo, come molti anni, una di quali è stata rubata un po' l'infanzia, una che è cresciuta a duro di imparare a creare una corazza, per quello che corrette nel figlio, questo figlio che invece in qualche modo ha una spinta interiore a vedere il bello, a scoraggere il bello comunque, a sfidarsi, nelle loro vorrebbe invece più diffidente, vorrebbe protettere, vorrebbe un figlio da un punto di vista più coraggioso, più incluso, ma sia lei che lui all'interno del carcere hanno rivoluzione, perché poi è così, insomma, se cresci, se cresci deprimato, se cresci in una mente così, insomma, anche lei tra l'altro ha anche difficoltà propeste, al finale il suo amore, proprio di sagratare con questo figlio, lì non c'è un punto tra la madre e i due morti dei maschi, e poi però, arrivato in questa realtà, in questo carcere, trovo delle persone che semplicemente la aiutano, vogliono aiutarlo, e c'è la psicologa Greta, che è la prima che cerca di scaffire un po' con la corazza, ma anche le guardie, insomma, anche lo stesso direttore, un altro personaggio, non più, sono lì per tendere la mano, e succede così, quando, l'altro giorno sono stato a Scampia per un progetto con dei bambini, c'erano un paio di bambini, il mio gruppo erano 7-8 bambini, c'erano un paio di loro, naturalmente, no, di silenzio, non voglio esagerare, non voglio prendere la mano, quando sono visto, un minimo gesto di pungla, di attenzione, e si sono aperti, hanno giocato, sono stati un po' di entusiasmo, e alla fine hanno abbracciato, per dirti, quando, quando poi trovi dall'altra parte, il bello, quando trovi qualcuno pronto di una natalità, ci siamo, e loro, il paradosso di questi carceri è proprio questo, purtroppo, come lì, i bambini non dovevano in crisi, in carcere, soprattutto a 2, 3, 4 anni, perché poi la legge prevede che questi bambini possano stare fino a un massimo di 6 anni, in realtà poi i giudici, di volte in volta a loro, ma a seconda dei casi, questo bambino l'ho conosciuto da più grande, Diego, a 9 anni, però comunque, in 13 anni, devono uscire, quindi è ricata, ma con 20-13 anni, vengono comunque tolte dalle matri, se questi devono continuare a scontrare la pena definitiva. Quindi, detto che veramente non possono, devono crescere in carcere, speriamo che appunto, da questo punto di vista, questa proposta di legge possa diventare legge, è già stata discusa alla Camera, comunque, il paradosso è che questi ragazzi, questi bambini arrivano lì, come ci dicevamo prima, e trovano quella minima cura, quell'attenzione da parte dello Stato, che prima non avevano, una visibilità che prima non avevano, perché c'è un psicologo che ci guarda tutte le settimane, il pediatra che viene vista tutte le settimane, c'è Medina che siamo liberi, non devono sapere della propria minima di questi bambini, non ci sono le volontarie che vengono a, che mi portano anche in realtà fuori, insomma, già lì vicino dove vengono, e quindi, è una cosa incredibile, che ottengo quella visibilità e quella attenzione che, in realtà, ci chiede perché non prima, perché arrivare accanto, perché va ad arrivare in un carcere, prima di occuparsi, questi poi sono i mali della società. E quindi Diego ha questo, Diego comincia a fidarsi e comincia anche perché l'ambiente è molto protetto, lui che viene dall'Origone, nel quale cerca di sfuggire costantemente al branco, e William trova la solidarietà anche delle altre detenute, della psicologia, insomma, quindi è sicuramente molto importante. Diccio questo, c'è qualche dolore, no, che viscola con tutte le persone, quando ci si riconosce con questo dolore, in qualche modo, quell'aiutoria, più o meno, è preparata, perché non l'abbiamo mai avuto, la cambia, no? Cioè, si fa guardare la più schifo e pensa, una cosa che vede anche in più in modo diverso, così il figlio è la crescita. Questa è la prima scena, il figlio è il figlio è il figlio. Esatto, lui non mi ha, può farlo, no? Sì, grazie anche a tutte quelle tante, quelle tante conversazioni con voi, la psicologa. ci sono anche delle figure intorno, come una qualche carcinale, insomma, che tu non ci racconti, io volevo quella parte, sì, dalla lettura a scuola. Sì, perché nel frattempo che, perché il mio primo è in terza, non so se qualcuno la mette, 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 lui è da Napoli, ma sta venendo da Napoli, no? Sì, vai vedete, ah, la diana, la diana, ah sì, sì, scusate, l'abbiamo letto, l'abbiamo letto in questa settimana, quindi se avete fatto in pissi, non me li sono a milano se vuoi. dico che se poi ci licenzia dal nostro lavoro che neppure lavoriamo insieme c'è stato a dire allora e questo mi ha permesso di raccontare di fotografare questa realtà da tanti punti di vista ci sono cinque personaggi che ricordano che sono Vila e Diego Greta la psicologa una bambina di 4-5 anni che tra l'altro anche lei è nata smaritma quando andava lì stava nel bottino a giocare c'era sta bimba la mamma era in lockdown doveva fare delle terapie ospedaliere quindi entrava e usciva da carcere quando rientrava doveva andare in quarantena quindi quel giorno che trova lì lei era in quarantena io lo lei e quindi c'era sta bimba un po' variata sul avanzale dentro una cella dentro le spalle e da lì è nata non so nulla della vita di questa bambina però è nata mi ha ispirato la figura in qualche modo di venire e poi c'è e c'è e c'è la guardia carceraria questo turista che è un personaggio che amo molto e poi invece c'è anche questi divorzi si alternano della caratteristica e poi ci sono invece anche altri personaggi che con te è il direttore c'è una volontà la terza persona mi ha permesso di sfruttare la romagna diciamo così buona di questo bene no volevo dire una cosa soltanto come questi bambini semblono troppo elevati e noi siamo seguiti dai nostri figli che stanno facendo un po' diciamo questo è il lato bello del come dire loro che vogliono in libreria magari diciamo più carino per la report sì stanno facendo la report allora vado in bambini giusto così Diego rientrò per pranzo Miriam era di spalle le mani nell'apello gli occhi alla finestra che dava sul bordiere quando lo udì gli disse mette ad amore i vado a pie pianta alcune detenute si fermavano a mangiare alla mensa molte portavano il pasto in cella Diego cacciò dal cassetto le tovagliette riempì la brocca d'acqua poi accese il televisore e cercò un cartone animato alzò il volume perché dal corridoio giungevano mescolati i rumori di chi si apprestava a mangiare chi chiamava il figlio suo che si attardava le vite per la maggior parte si assomigliano tutte ma in carcere sono piccine alla stessa maniera e si assomigliano ancora di più e si tengono insieme per farsi forza si appoggiano per non cadere Diego sbircia un cortile e vide Melina nella cella di fronte alla scuola a cinque anni parlava pochissimo appollaiata sopra il cananzale con la testa tra le sbarre guardava un po' fuori e un po' la televisione mi mancola vide la madre che le sfilava dietro andava e veniva per avvelire la tavola poteva sentire il suono delle stoviglie e il profumo di cibo che si spandeva dalle altre celle Miriam lo tornò con la pasta e le patate fumante battì a lavare le mani gli ordinò a musuluro sedendosi che si è stato tutta la mattina da fuori cortile a fare le capriole per terra e a far ridere la gente Diego andò in bagno e tornò senza dire una parola si rifugiò nella televisione perché lo sguardo di sua madre addosso lo avvelenava perché con lei nessun attimo era al sicuro scovava sempre in lui qualcosa di sbagliato e Diego a lungo andare si era convinto di essere sbagliato gli eterni silenzi di Miriam era uno strumento di tortura e avevano fatto germogliare il suo figlio uno sconfinato senso di polpa che il bambino non riusciva a sforzare per via della poca età che teneva avrebbe tanto voluto una parola una spiegazione da lei che però sospinava restare zitta senza capire o forse sapere che nella vita ci sono momenti in cui parlare diventa un obbligo al quale non ci si può sotturare c'era in Miriam la convinzione profonda di dover essere infelice perché nell'infericità trovava la migliore giustificazione alla propria condizione essenziale magna la sua fetta gli disse senza guardarvelo poi prese il telecomando e abbassò il volume lui cominciò a scavare nel piatto invogliò due cucchiaiate e disse sai che tanto sa trattenere l'aria per più di un minuto e però gli si fa la faccia gonfio e brutta e abbandonò il cucchiaio sulla tavola per aiutarsi a simulare con le mani il viso contratto dell'amico che pare a dire e per ridere si putti a piove un po' di cibo manco quando mangi che stai inserito e c'era me Diego si ritiene alla pasta e al cartone lei finì in fretta e salzò mi si è tetto nella vella aprì la finestra e accese la sigaretta rimase con mezzo volto a fissare il coltile vuoto lui spostò lo sguardo dalla televisione alla schiena di lei ispezionò la piccola figura che gli era madre i capelli rossi raccolti la maglietta bianca sempre quella le ciabatte ai piedi e gli parebbe così vecchia seppur piccola e arrabbiata e si scoprì ancora incapace d'aiutarla impotente si sentì di nuovo un peso fuori luogo mai abbastanza avrebbe voluto strengerle la mano e vederla sorridere avrebbe rischiato di parlarle di futuro le avrebbe promesso che a lui questo tastano e finché stavano insieme andavano bene ma Miriam l'avrebbe scostato con i suoi modi strani lei sfuggiva al contatto fisico lei così brava a far sentire inadeguato chi le era accanto perché inadeguata si sentiva lei talmente inadeguata da inseguire con perseveranza il peggio per sé lei che metteva tutto l'impegno possibile nel tenere dentro l'odio per quelli che non l'avevano capita sorretta per chi l'aveva amata male lei che si escludeva alla vita per paura che la vita potesse infine meravigliarla e senza comprenderlo forse senza volerlo insegnava quel cattivo esempio a quel suo figlio dal cuore malato e dal bel sorriso a ritirarsi a non giocare le partite che in ogni partita c'era dentro l'eventualità di perdere e non gli dava tremo mai lo spingeva senza remore a distruggere quel po' di beatitudine che lui cercava di conservare non te l'avessava con chi lì là disse sentandogli le spalle chiego intuì che stava parlando dei suoi amici di colore i figli di Amina che con sua madre non si prendeva non rispose lei spense il mozzicone sotto l'acqua del rubinetto gli riempì il bicchiere e si fermò a guardarlo da un passo lui sollevò gli occhi e azzartò un timido sorriso e allora sorrise pure lei gli tolse il piatto vuoto da sotto e gli scombino i capelli facci fatto troppo un po' le fesse a te e il mo non ti riesci a pagare infilò di nuovo le mani nella vella Diego vece a scorrere la serie e sanzò prese il camion da dalla mensola e cominciò a girare in tondo pensò di parlarle dell'albero di Natalia che avrebbero dovuto allestire in cortile ma tentennò e si tenne dentro l'eccitazione aveva sentito che le altre madri avrebbero messo gli addoni alle finestre e controllò segretamente in giro per capire quali fossero i punti migliori da decorare gli venne di parlare del padre gli sarebbe piaciuto scrivergli per le feste ma sua mamma sembrava persa in quei giorni aveva in viso una rabbia buona senza che entusiasmo avrebbe detto a qualcuno se glielo avessero chiesto Miriam si dipendeva dal tempo facendolo solo passare e la sera quando calava il buio le cedevano le cellule quando lei credeva che lui dormisse la sua tristezza prendeva la via delle lacrime e Diego allora avvertiva il cuore e il petto sussultare avrebbe dovuto alzarsi per spenderle sul viso a una una le lante e stringerla forte ma non sa zandava non teneva il coraggio perché in fondo come ci siamo detti pensava di non poter cambiare nulla con i suoi gesti con la sua sola presenza che botta perché il ragazzo è facile di sbiscerare il personaggio di fartelo prima di dar la mano lo vedi e dici perché sarà così lui piano piano ha un pezzo di pancia un pezzo di occhio un pezzo di menti fa proprio entrare lì dentro e entrare anche nei cambiamenti nelle ferite ma io la opinione è una cosa che vorremmo salvare lui sai è un po' il racconto dei limiti e degli ultimi carcerati sono tutti da ultimi bambini non ne parliamo proprio noi che abbiamo avuto questi dei anni i bambini a casa grazie di cui parlavamo prima inascoltati e invisibili però io pur raccontando il carcere pur raccontando vorrei raccontare questa realtà perché sono venuto ad essere raccontata e ad essere chiaramente risolta però ho sentito l'esigenza di fare quello che ho sempre fatto cioè di sì di andare a sbiscerare un po' l'essere umano mi diverto a cercare di scendere in profondità quindi raccontare quello che è vissuto dell'essere umano e se questo l'ho potuto fare è stata difficoltà di ognuno di noi lo stare al mondo insomma e le lesioni che ci portiamo dietro e questo l'ho potuto fare grazie soprattutto alla bambina certamente alle detenute e ai bambini ma anche soprattutto grazie agli altri cioè a questi alcuni altri personaggi che sono liberi come Vicky come Greta come Antonia come tanti altri che lavorano nel carcere che però hanno una vita e ho raccontato di questi personaggi da ugualmente un certo livello di prigionia perché poi è una riflessione appunto che non c'è tutto si deve esigenza di uscire dal carcere di ampliare la riflessione sulla prigionia e ho toccato forse tematiche che in parte mi riguardano che un po' sono sempre presenti nelle romanzi appunto sono tutti personaggi si vinti che però e quindi che si trovano imprigionati in vite che appartengono fino a un certo punto come vittime di sono dentro gabbie vittime di ognuno può essere le sue catene che può essere la malattia di un genitore può essere un matrimoniale bagliato può essere una condizione economica difficile insomma le cose della vita e però sono tutti personaggi che in qualche modo ecco cercano di ribellarsi a questo e quindi dentro cercano di conquistarsi a un certo livello di un certo grado di libertà di reagire cercano il riscatto e questo è un po' quello che mi accattere forse in questo quello che è stato detto dai lettori di cui ci si identifica soprattutto in questi personaggi qui perché in questi personaggi qui troviamo quelle che poi sono le nostre il nostro libero e quotidiano al di là della realtà delle mani dei figli di tutti gli altri c'è poi la nostra quotidianità la nostra il nostro tentare più o meno di essere liberi di essere di rendere degno il nostro tempo e poi fuori nel dentro c'è Antonia da qui si andiamo su secondo me è un personaggio di Roma buonissimo un poveriggio Antonia aveva smontato alle 15 si era tardata qualche minuto a dare istruzioni a un giovane collega quindi si era messa in viaggio verso casa abitava un quarto d'ora d'auto dal carcere i suoi figli erano fuori la mattina Antonia gli aveva lasciato il pranzo una frittata e le zucchine pulite insomma c'era solo da scattare si era prodigata a tentare di essere perfetta per loro e assumersi il ruolo anche per suo marito che era un tra uomo certo e però nella vita gli avevano insegnato a farsi bastare i sogni si accontentava di quel che aveva e sporsi che non desiderava compiere era affidabile non perfetto se era il reso gioco di un'esistenza priva di scosse cercava la quiete più della ricchezza e la stabilità più dell'amore aveva la calma per fare tutto e tutto sapeva fare con le mani era un bravo operaio e un buon compagno ma noi non ne voleva a niente si appassionava nemmeno fare l'amore teneva la vigliacchia dell'animo era albero spoglio sotto di lui non si trovava riparo e così lei aveva dovuto fare per lui si erano incastrati negli anni e non più non stavano un ruolo Antonio aveva verso i figli un amore snervato eccitato un amore cieco li manteneva legati a si come fossero a par su e basta e si era incaricata nel tempo di decidere per loro di indirizzarli come aveva fatto col marito le aveva cresciuti in sottrazione per fortificarli tentando di togliere loro quel che il padre dava senza pensare parole e carezze Antonia se le era tenute dentro pensando di far cosa buona non aveva concesso ai figli approvazione sapeva che voleresse accettare sapeva sapeva che voleresse accettare sapeva che voleresse accettare sempre mettere i guai e che non c'è male peggiore che levosinare l'attenzione altrui che ci si deve abbassare da soli e non stare a chiedere consigli male se la domandava cosa significasse essere ignorati da chi per te rappresenta il mondo voleva che i suoi ragazzi crescessero con le spalle larghe non aveva lasciato spazio per loro all'imperfezione soprattutto per la femmina che per le donne la vita si sa è una brutta bestia si chiamava Giana la figlia e seguiva i ricorsi a giurisprudenza voleva diventare avvocato meno di quanto lo volesse sua madre però si applicava nello studio perché solo così sapeva fare mettendo il massimo dell'impegno il piccolo carvero dava qualche problema in più niente di catastrofico solo che i maschi sono così perciò Antonio l'aveva messa a fare il basket da ragazzino e lui aveva trovato l'altezza tutta insieme ed improvviso come un fiore semplatico che si erge nel prato alla mamma la abbracciava sopra le appoggiava il mento sulla testa e la stringeva a sé e in quei casi Antonia si conservava addosso l'intero giorno la commozione per quel suo figlio cresciuto troppo in fredda che presto sarebbe un pozzo niente a casa quel poveriggio c'era il marito che avrebbe dovuto essere in fabbrica stava seduto al tavolo della vicina con una pieda davanti cosa è stato gli aveva chiesto lei subito il giuppino ancora addosso e lui non aveva detubato però la verità gliel'aveva scudata senza alzare la bacia dalla mattina ma non ci iniziano alla fine ci hanno buttato fuori il nome Antonio aveva sentito come una puntura di spillo e si era seduta domani facciamo un zittino zitti non ci stiamo abbiamo parlato un'altra volta con i sindacati aveva giunto lui stavolta guardandola Antonio aveva perso peso in un voto il respiro era uscito fiacco dai polmoni si era sgonfiata davanti a lui le paure e le preoccupazioni si erano fatte sotto la forza che negli anni si era imposta di tenere si era sbriciolata come faremo? aveva chiesto solo con un figlio di voce in un modo faremo si era allungata ad afferrare la birra il giubbino ancora stretto attorno alla cuola aveva dato un lungo sorso e aveva posato la bottiglia vuota sul tavolo e come? col mio stipendio ci paghiamo il fitto e poco altro come facciamo a campare? proverò un lavoro e chi ti piglia a te? aveva piascicato Antonia disperata e si era strappata di dosso il giubbino in cerca di un po' d'aria tieni 56 anni hai fatto sempre l'operaio chi ti piglia? l'uomo si era coperto il viso con le mani stroficciandosi gli occhi con le dita poi aveva detto un'altra conceria si, papà sono tutte chiudendo da una a una qualcosa mi inventerò aveva concluso lui e si era alzato da un priaco camminato per la cucina negato in due ma arriva a sorreggere sulle spalle un sacchetto di calce e spruzzo seppur Antonia aveva provato per lui un po' di compassione che in fuoco era sempre stato il lavoratore non l'aveva dato a vedere non dicevi niente a Già del Carmelo aveva tenuto a dire a lui di me non mi importa aveva allora risposto Antonia ma allora dobbiamo dare un buon futuro troveremo un modo aveva proseguito a ripetere il marito ed era poi scomparso nel corridoio da allora erano passati quattro mesi il lavoro non era tornato in casa e trava solo lo stipendio di Antonia la quale si era obbligata a chiedere alla proprietaria di casa una dilazione e questa si era detta pronta a concedere le due mesi c'era ora da pagare gli arretrati e i soldi per altri non è restato suo marito trascorreva la notte nel letto a rigirarsi mancò più la televisione non riusciva di guardare mangiava il necessario gli era andata via la voglia e se la mattò mago il volto se ne erano divorato le preoccupazioni e se prima parlava di rato adesso nulla più riusciva dalla bocca Carmelo troppo per loro non ne aveva c'era poco in casa giocava a basket e correva dietro le ragazze Giada invece si era allarmata il padre veniva e si storceva e si storceva sembrava un arbusto secco Antonio aveva preso a confiarsi si arrossava sempre più in viso e spesso alla sera nel pianto aveva l'arco ma teniamo bisogno di soldi aveva provato a chiedere la figlia una sera che erano sole davanti alla televisione Antonia si era fatta impassibile e l'aveva tranquillizzata alla sua maniera non ti stare a impecciare di cose che non ti competono pensa a studiare e basta ma più passava il tempo più Antonia sentiva crescere dentro la disperazione la sua vita si era ridotta a poco e niente e le sembrava un'offesa a volte si sarebbe messa a gridare ma poi cominciava a rimuginare a fare calcoli e non faceva altro nella spesa ci metteva tutta l'attenzione possibile non acquistava più le cose per sé si era tolta le tisane che le sere d'inverno le davano un poco di serenità tolta le creme per la pelle secca per i piedi coi geloni tolta ovviamente quei pochi grande vinci che pure si divertiva ogni tanto a comprare a suo marito manco più la schiuma da barba prendeva che facesse col sapone come si usava una volta però si era accorta di provare pena per noi se ne stava la giornata intera per strada col berretto striminzito soltato a chiedere favore agli amici e ai conoscenti si arrabbattava per quanti spiccioli la sera che in casa aveva infredolito e muto e lei sola a vederlo a immaginarlo prostrarsi davanti a chi nella vita si arginava a fiero avvertiva lo stomaco in calvugliarsi e il sangue pareva che rigolasse via da ogni pertugio perdeva ogni forza si svuotava e restava senza più bricio di vitalità il corpo ma a piangere non si decideva era stato sul punto di farlo un pomeriggio al supermercato quando aveva esitato davanti al barattolo della novella verso il figlio e di colpo si era sentita addosso gli occhi di una signora che forse quella era solo curiosa o forse aveva per la testa i parti suoi e nemmeno guardava davvero ma Antonia se la convinta ad aver visto in lei la pietà e perciò era corsa a nascondersi tra gli scappari la miseria era venuta a strappare e anche la dignità la rendeva ora rimabosa preda che non esce dalla dana e le tagliava le gambe a poco a poco le altre figioni le altre figioni mi fanno tre chiavi altri cieli ci sono domande curiosità sì se non lo so va bene andando ce ne vediamo che comunque le reti le signore le amore il titolo il titolo è una frase però non posso spiegare perché altrimenti lavora appunto una scena è una frase del titolo è un titolo una metà nel senso grande nel senso la genitorialità le madri la maternità non è solo dormire ma avere una pietra nel petto ma l'opera che passa giù non decida mi viene a letta e quindi e quindi questo anche se si riferiva a dormire e lo schieripato non ho mai disse che mia moglie dorme alla grande le sette anni però che si speglia di notte sono e dice no è letta altre volte adesso anche o che la paghiamo questa cosa che ho detto scherza guarda le domande che io e lei vorremmo chiederti sono talmente tante che non me ne viene niente una in questo momento perché proprio è un libro capolavoro a Napoli ti dissi che quello che io chiamo Henry il tuo secondo libro era il tuo capolavoro questo l'ha superato grazie per cui più che parte la domanda ti voglio fare complimenti perché questo è veramente un libro pieno di emozioni pieno di cose belle tristima pelle perché al fine c'è sempre un po' di speranza almeno io la vedo così e per cui ti faccio tanti tanti complimenti grazie 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 e allora anche io nel senso che vorrei fare una domanda ma naturalmente non posso perché togliere alle persone che ancora non hanno letto di arrivare fino all'ultima l'ultima rita come tu avevi detto ma è come questo romanzo il finale come tu avevi detto a Diana non svelare l'ultima rita perché l'ultima rita è veramente di una bellezza che solo tu secondo me riesci il fatto che non è una legge il finale mi prego no 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 e quindi no nulla Lorenzo io semplicemente ti volevo dire come ha detto lei appunto perché non voglio rovinare gli altri la lettura io ti voglio ringraziare perché tu riesci sempre in qualche modo a smuovere e uso una parola tua che forse ti avevo scritto in qualche post a sbriciolare l'anima che poi è una parola che usa Diego io ho amato Diego perché da madre penso a lui penso Miriam ma penso molto di più a Diego perché in quanto figlio ognuno si sente la mamma di Diego e vorrebbe proteggere ti voglio ringraziare per questo perché sei capace di entrare nelle anime delle persone usando parole e descrizioni e senti di essere anche tu là dentro che ti viene voglia di abbracciare quelle persone e dirgli andrà tutto bene Rosa è veramente meraviglioso dal primo all'ultimo libro che scrivo io l'ho letto tutti però grazie per aver scelto di scrivere guarda che voglio dire avevo lasciato quello che c'era prima ciao buona serata grazie te la faccio io una domanda non ci ringrazio perché non l'ho ancora detto ti ringrazio sulla fiducia in realtà la domanda che ti faccio è questa tu in un altro libro hai scritto è una cosa che mi ha colpito molto non si possono salvare le persone che non vogliono essere salvate allora ho ascoltato quello che che ha letto la vostra bellissima attrice e la domanda è ma queste sono persone che vogliono essere salvate e nessuno le salva o o punto di domanda se vuoi no poi ovviamente quella quella fase che la guarda ti riferisci è di è di Cesare del buon Cesare mi dico senza ma poi è un libro che ancora oggi mi studisce perché continua ha una sua vita eh si si è diventato io vedo che in realtà beh la Cesare si riferiva a un'altra situazione nel senso che appunto devi tendere la mano e dall'altra parte c'è 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 di essere chi però è pronta pronto da ciuffare la mano cioè ha una consapevolezza tale da andiamo di Emma adesso non so chi l'ha letto nel senso di essere felici eh tutti 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 e quindi c'è una consapevolezza tale da 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 mettersi in modo per salvarsi cioè ci vuole questa consapevolezza di questa politica qui parliamo secondo me un po' diversa la posizione parliamo di persone che hanno detto prima che hanno avuto un solo un solo sguardo sulle cose un solo modo hanno di essere insegnato un solo modo di stare al mondo nessuno ha mai aperto una porta a queste persone per far vedere che esiste altro oggi mi ha scritto una mail bellissima una docente dell'università che lavora perché ovviamente poi il romanzo attiva questa che lavora in carcere a secondigliano e diceva questa cosa appunto bellissima che lei ha paura perché talmente l'evoluzione talmente nel tendere questa mano è talmente l'energia che riceve da questi la ovviamente parliamo di detenuti quindi c'è di persone che hanno commesso le aree ma parliamo di bambini però è talmente rivoluzione è talmente sì rivoluzione non mi ha dato la termine che hanno questi detenuti che lei diceva un paura che poi una volta tornati nel loro ambiente nel loro contesto in cui l'amifizio poi tutto questo possa essere contro concetto secondo me non è così anzi tutto quello che apprendono è un percorso formativo un percorso che tende a conoscersi a migliorarsi secondo me un percorso di consapevolezza non può che essere positiva e quindi il discorso è un po' diverso nel senso che mostrare a queste persone che esiste appunto quello che fa Greta quello che fanno un po' tutti lì dentro aprire porte vedete qual è la prima parola quando vi metti dicendo aprire porte la prima parola che questa l'ha detto Paolo Siani a Napoli che una bambina ha imparato a vivere in carcere perché è nata e cresciuta in carcere la mia parola è che apri il più bello secondo me è una metafora giusta nel senso che bisognerete aprire porte queste persone e gli ultimi e invece gli ultimi nel nostro mondo nella nostra società restano ultimi perché non c'è nessuno che apre queste porte e quindi questo grazie allora volevo sentire una cosa che parte quello che hanno detto loro che è sottoscrivo magari altissima se mi puoi rispondere allora io ho iniziato il romanzo si sento male vieni notte si è l'inizio del vieni notte già ho detto un po' meno e come che ci vedo non è solo il fatto della terza persona secondo me è come un romanzo un po' diverso dagli altri tira un'area diversa cioè si sentono le tue caratteristiche stupende però si sente anche tanto il fatto che tu vuoi entrare nel cuore dei lettori e far ripetere su una problematica importante questa è la prima impressione che ho avuto e che volevo restituire ovviamente non negativa e se mi vuoi rispondere la domanda è di tutti i tuoi libri che ho provveduto ad acquistare tutti e adesso mi leggerò tutti perché sono diventata una da grande fan ma questo è il primo che leggi? no 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 questo è il tivo e il quinto ah ok ma quando hai iniziato? allora ho iniziato con Magari domani resto e poi con La tentazione di essere felici La distanza sono leggero Ragazzo normale quando hai iniziato? si trovi a tutti non sto mentendo in questo senso e col buono stocente che sono insegnato ho comprato tutte le che mi mancavano e niente quindi volevo chiedere tra tutti i personaggi e tutti i libri che hai scritto o comunque tra tutti i libri che hai scritto dove c'è più di te oltre che delle persone che hai incontrato per primo scrive anche te scrivendo no? abitura animo umano in quale c'è più di te se vuoi dirlo ma guarda adesso non voglio esegrare le retorie però mi dici in tutti perché in ogni romanzo c'è quel mio momento un momento specifico della mia vita parlavo da essere felici che è un romanzo che mi ha cambiato la vita e che ancora oggi appunto lo si è più venduto con le mie ancora però è un romanzo che io sento lottano nel senso che romanzo pur amando Cesare anche in voi mi chiedete di contrarre di Cesare però non ce lo sento notare perché la fotografa ma è un momento della mia vita che non ne esiste più cioè quello di là si fa il cambiamento di impianti di scelte di quest'uomo che si gira di snod tendire e capisce sprecato la sua esistenza quello è un momento nella quale appunto mi sentivo incatticato è una vita che non mi apparteniva e per fortuna per anche per l'ostinazione che ho avuto il momento è passato c'è uno snodo e l'ho risolto quindi in ogni libro poi c'è la tristezza che sono leggero che lo chiedono per l'ora dove appunto in parte la mia famiglia e la mia infanzia un ragazzo normale pur parlando di Giancatoziani però racconto la mia infanzia è uno che ho avuto molto vicino perché tra l'altro ancora oggi dopo 4 anni parlo nelle scuole tanto sono stati tante scuole però per dire la donna degli alberi racconta di un momento di una mia riflessione di ovvio sentire in quel momento fondamentale cioè derivo da tutto straperfetto che era questo tour molto dispendioso eccetera mi viene da conmovire adesso non la faccio lunga mi ritrovai ricoverato nel Cilenco nel 2019 e dici basta siccome sono siccome in questi sette anni e mezzo i carabini sono passati sette anni e mezzo sono sempre 25 perché ho pubblicato tanti libri in giro ritardo eccetera allora mi era ancora voglia che passi sul tempo sento la necessità di fermarmi di prendermi un attimo di respiro di guarire di guarirmi e di tornare poi quindi poi non anche fermarmi con la scrittura invece la scrittura la donna lì abbia servita per raccontare questo cioè per raccontare questo mio sentire rallentare fermarsi mettersi nel scotto di sé spero di guarire e poi tornare con lo sguardo di essere quindi appunto di una donna che ha la fortuna che si è preso per andare un anno in montagna eccetera 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 cioè nel senso che i miei personaggi sono un po' come i miei no? faticano 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 a rimanere in equilibrio però la scrittura questo in vista mi ha aiutato tanto quella della paternità eccetera ho sentito un po' la necessità di rivolgere lo sguardo alture non che i miei romanzi erano avanti di me però attraverso quei romanzi ho comunque sono andato comunque ad analizzare quello che ho vissuto e poi a un certo punto poi se avessessi una pietra adesso ho la possibilità e la forza di guardare all'esterno mi sento un privilegiato in questo momento della mia vita che posso vivere raccontando storie una cosa meravigliosa e posso fare il padre H24 e quindi ho voluto invece dare voce a quelli più fortunati quindi è l'ultimo quindi in ogni romanzo c'è qualcosa che mi trasporta che mi trasporta quindi non solo ma non ce n'è uno credo di essere sempre di essere autentico ho fatto la risposta di un conto di 20 minuti scusate una domanda molto breve tanto grazie per portare sempre a questo mondo sono conosciuto e quindi mi fa piacere entrarci e conoscere altrimenti in questo momento la realtà mi è rimasta una domanda come spiegato dei bambini che possono stare con le mamme fino a 10 anni poi quando poi quando compiono di sì dipende dipende generalmente quando in ultime cose quando escono su però si tende generalmente a darli a familiari di alla lontana e nel momento c'è questa dinamica che non parla bene grazie grazie a voi ciao grazie grazie a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti quanti eventi si è dovuto assorbire grazie grazie a tutti grazie 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 grazie